Io già sai dove sto andando No ho sbagliato strada, dov'è Washington? De si? Dov'è il mio amico Washington? No! Sono un telefono Sono io? Ah anche tu, tu sei quello vecchio però Si 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 Beh, non credo sia il ultimo modello Ops Ma tra l'altro stando così e continuando a fare così Non builda più l'ectoplasma Devi guardarti sempre intorno Ma quello che lo sta facendo? Aia Aio 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 Ok, li ho distratti Spero di averteli portati via un po' Uno sicuro me lo sono preso No, distrutto Merda Ti hanno anche succhiato vero? Si Eh, penso proprio di si Comunque il suo telefono è velocissimo Vabbè, l'oggetto più piccolo Sì, si 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 si, è vero Si si, è vero E fa anche drin drin quando picchia contro le cose Drain 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 No, era bang bang Si Vabbè Vabbè E' quello Aiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiaiai Qua la vedo male sta partita Io dovrei mollarlo al telefono, vero? O che si pensano ancora che sono un telefono Eh, siamo sempre attaccati al telefono E' vero Io vorrei la statuetta di Washington Ma non la trovo più Porca miseria Questi stanno ancora qua A esplodere Qualcuno è salito su Chi è? Chi è? Ho sentito alitare Anch'io Però non era in gioco Quindi è qualcuno che è entrato su discord A fare il dispetto Senza che sentissimo l'avviso? Eh io ho le notifiche disattivate Non lo so Era la team No 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 Premo start per Sì 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 Ok ora ti sento Qua è grave la situazione Grepe Per riscoprire la live Sul secondo monitor Tanto ti tengo Aperto anche sul telefono Quindi Sì Ok ma ne vado All'altra parte della mappa Una telefonata ti salva la vita Dicevano Ti allunga la vita Ah ti allunga la vita è vero Salvartela Però qua non ho via d'uscita E piove pure dentro Come fa? Ah no è il tubo che piove Che goccia Ok Il tubo che piove Tra l'altro ci sono anche delle candeline qua Utili utili Però 40 secondi Ok Che potere posso andare a Sento passi E mi tolgo di qua io Lui sale Vado di qua No sono tornato Dove erano prima Praticamente Niente Si sono fossilizzati A sparare lì Quindi Chezzi loro adesso Io ne cerco uno da solo No Stanno andando a coppie Sono furbi Non è vero Uno è rimasto Da solo Io provo a fare il doppelganger Preso Preso Presi Chi rimane? Ah lui Preso Tre Oh Tre kill Bello bello No No Il migliore È Sherlock No il nostro è R Ok R Vabbè Vabbè Non No 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 Grazie per la visione!